Via! 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 Raccontami una storia. Raccontami tutti i particolari. Mi sono svegliato. Dov'eri? In un incubo. Parlamene. Poi? Poi? Io e gli altri ci siamo dati da fare. Aspetta, aspetta, fermo. Hai dimenticato qualcosa? Stai scrivendo un libro. Vissero tutti felici e contenti. No, non è così, Arthur. Perché per la prima volta c'è qualcosa che non sai. Qualcosa che nessuno ti ha detto. Guerra! Orevate una profezia. Questa è la vostra profezia. Young man came from hunting, faint and weary. Io so che uomo sei. But is that my lord, my dearie? Conosco la tua storia. Ammirate! L'uomo che ha estratto una spada dalla pietra! Non mi trascinerete in questa rovina. Voi siete un'armata. Io sono da solo. Parliamo. Sono lieto di parlare. Ma per nessun motivo io combatterò. No! E ora cosa succede? Lo sai cosa succede? Presto diventerai una leggenda.